Venderò le mie scarpe nuove ad un vecchio manichino per vedere se si muove, se sta fermo, se mi segue nel cammino. Bene, buongiorno, la novità era questa, io non in tutti i filmati, siccome sai, onestamente parlando mi sono sentito la esibizione canola che ho fatto, certo, ho stonato di brutto, dai lo ammetto, ho stonato di brutto, allora ho pensato di fare questa cosa qui, non tutta la canzone ma non in tutti i filmati, in quelli che magari vengono qualche strofa di qualche canzone un po' nota, provandola un po' prima, se riesco a farla, la ricoporla così, la strofa e basta. Bene, questa è la novità, comunque volevo anche farvi vedere Masone in questa domenica, 26 se non sbaglio, scusate se sbaglio ma fate conto che l'alzheimer è molto brutta in tal caso, questa è Masone come si presenta questa mattina, un po' ventosa, infatti c'ho l'altra volta qua, c'ho l'ancora per stare fermo, c'ho anche la corda legata al muro della casa che non vedete, perché se no qua volo, poi mi ritrovano chi se dove. Va bene dai, da Masone è tutto, Franco Vergari vi abbraccia e vi saluta, ciao! Ciao!